È un progetto articolato in tre attività e in tre momenti, la fine di maggio, la fine di giugno e la fine di luglio. La Biennale di Forgiatura Bienno, una donazione che Franca Ghitti fa al proprio paese natale, Erbanno, alla fine di giugno e un intervento di allestimento di una mostra, i cancelli d'Europa e dei laboratori d'arte al Castello di Breno alla fine di luglio che coinvolgerà oltre all'artista anche dei giovani studenti universitari.